ah ecco buongiorno scusate ma questo sushi è pavoloso architetto buongiorno è un piacere fare la sua conoscenza come valli ad osaka bene riqualificare il piano libero del corviale significa ricercare conforme con delizio dell'abitare buongiorno buongiorno riqualificare il piano libero del corviale significa a ricercare nuove forme condivise dell'abitare il piano verde è inteso come luogo e spazio di aggregazione sociale i progetti saranno totalmente finanziati da situazioni scusate mia figlia e la piccola luiz veronica mia moglie è una fan di madonna